Ci troviamo nella zona industriale San Marco in compagnia di Marisa che è un'appassionata di animali e collabora con l'associazione Mattis. Amici di Mattis che è un... Presidente Martina Monte. Che cosa è successo qui? Martina mi ha informato avanti ieri che c'erano dei cani qua abbandonati, dei cagnolini piccolini abbandonati, precisamente otto. E mi ha chiesto la collaborazione di venire a vedere un po' cosa si poteva fare. Siamo venuti ieri per dargli a mangiare, abbiamo visto che questi cani in stato di abbandono, in questo stabilimento abbandonato, senza mangiare e senza bere, li abbiamo acuditi. E oggi pensiamo di portarli via dal veterinario per farli visitare perché hanno tanti problemi. Hanno i vermi sicuramente, le zecche, i pulci e insomma bisogna visitarli. E quindi che cosa chiedete? Chiediamo la collaborazione intanto dall'amministrazione comunale per quanto riguarda le spese di questi cani, perché sono otto. Anche dalla gente, possibilmente se vogliono fare un'offerta, l'associazione, amici di Mattis, noi poi provvediamo a pagare il veterinario, se riceviamo dei fondi. E niente, poi se qualcuno li vuole adottare, siamo disponibili, per il momento li prendo in carico io in una mia campagna, li pulisco e poi sono otto cani da adottare. Che se riusciamo ad Alghero o in Sardegna, altrimenti si possono far partire fuori, in qualche canile dove si prodigano per darli in adozione. E allora in quel caso, quando staranno bene, chiaramente, ci sarà da pagare un viaggio, eccetera. Se l'amministrazione vuole collaborare, noi le siamo gratti, o anche la gente.